Un'opera per Amatrice è questo il titolo dell'iniziativa promossa dall'Associazione Rasenna con il patrocinio del Comune di Arezzo. Domenica 6 novembre alle 21.15 al Teatro Petrarca andrà in scena Cavalleria Rusticana. L'intero incasso della rappresentazione teatrale a cui parteciperanno 16 elementi del Maggio Fiorentino verrà destinato al Comune di Amatrice. Un progetto abbastanza di livello però per questa iniziativa ci voleva sicuramente un progetto che avesse questa tiratura e anche per i collaboratori con cui andremo a realizzare che provengono tutti da Firenze e dall'Orchestra del Maggio ecco che si allaccia bene il rapporto con questa causa di beneficenza volta appunto a raccogliere fondi per la costruzione del nuovo teatro di Amatrice. I musicisti che interverranno sarà il coro di Montugi, i musicisti provenienti dal Maggio che saranno 16 perché è un arrangiamento più ristretto, curato dal maestro Fabiano Foglianzani che sarà anche il direttore dell'orchestra più i cantanti di cui devo fare un annuncio e infatti nel ruolo di Turiddu ovvero il tenore non ci sarà più Enrico Nenci ma Cascarri Giorgio.